Peccone ho fatto una traiettoria che avrei mantenuto in ogni caso, ma è un incidente di gara. Lo spagnolo è d'accordo ma predica calma Federico Mariani Francesco Bagnaia e Maverick Vinales sono diventati protagonisti del Grand Prix di MotoGP France, ma non per un duello per la vittoria. I due piloti, in pieno bussare dopo una serie di sorpasso e contrasto che è costato il ritiro ad entrambi. Alla fine della gara, sia lo spagnolo della squadra di Aprilia che il campione del mondo italiano su Ducati, hanno fornito la loro idea sull'incidente. Bagnaia 3-0 stagionale per Bagnaia Francesco ha spiegato il suo punto di vista sui microfoni del cielo era chiaramente un incidente di gara, una circostanza sfortunata, che probabilmente avremmo potuto evitare. Mi ha superato un po', ero sulla mia traiettoria. Ho cambiato direzione un punto in cui l'avrei cambiato ogni caso, ma anche lui ha mantenuto la traiettoria giusta. L'abbiamo attraversata, è stato anche un colpo abbastanza violento. Quindi un commento sullo stivale di Brawlwit Vinales non ho fatto punto mi piace reazione dopo la caduta, ma sono l'adrenalina e tensione che possono giocare battute. La paura tende a rendere aggressivo.